Ok, sta a sentire. Ho ricevuto una soffiata dove dicono che questo posto è pieno di bella roba. Troviamo un modo per entrare ed usciamo, tutto chiaro? Oh sì, tutto chiaro. Devo dire che sono un po' nervoso, ma penso di farcela. Ma cosa cavolo? Ho detto di vestirti interamente di nero! Ah, lo so, il passamontagna l'ho preso in prestito da mia sorella. Non ne avevo uno nero in casa. E poi chi è che conserva un passamontagna? Forza, entriamo ed usciamo, ok? Allora, ho appena scoperto che la porta sul retro non era chiusa a chiave. Oh, bene, benissimo. Penso di aver trovato lo sgabuzzino. Allora, dovrebbe essere in questa stanza. Oh, andiamo. Dovrebbe essere in questo scatolo. Oh, eccolo qui! Un Game Boy Color funzionante con una copia di Dragon Slayer 7! Ci giocavo tutti i giorni da bambino. Ci ho giocato così tanto che si è rotta la cartuccia e non ho trovato più una copia. Mi domando se è come me lo ricordo. Oh, mio Dio. È perfetto. È proprio come me lo ricordavo. Ehi, che ci fai in casa mia? Mio Dio, quello è il mio Game Boy. Ti prego, dimmi che non hai cancellato i miei dati. A presto! Grazie.